Buonasera, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog. Stasera voglio darvi il mio pensiero su un argomento caldo come queste prime giornate estive, gli abbandoni. Siamo i primi giorni di estate e i canini sono già al collasso. Cosa cazzo vogliamo fare? Prima di essere un professionista sono un genitore e come tale insegno ed insegnerò a mia figlia la cura dell'altro, perché oggi è un cane ad essere abbandonato, ma domani potresti essere tu. Ci hai mai pensato? Abbandonare chi si fida di te e vede solo te è un amicidio emozionale che non è quantificabile con nessuna pena. Anche lui diventa vecchio, ma non per questo è da buttare. Meritano amore come loro sanno dare. Se non sei in grado di badare ad un cane, come puoi pensare di fare un figlio? Quali principi vuoi insegnargli? A me non interessano le catene con immagini. Ci metto la faccia per difendere la loro identità e il lavoro di tutti i volontari che ogni giorno combattono contro questo vile atto. Il cane non è un gioco e ti accompagna e ti accompagnerà per tutta la sua e la tua vita. Se lo ami ti amerà incondizionatamente, non deluderlo mai. Non gli abbandoni, prenditi le tue responsabilità. Lui non è un bastardo, ma il bastardo sei tu. Firmato Marzio Sala, presidente di Affinity Dog. Grazie. Grazie. Grazie.